Festa dell'albero oggi all'istituto scolastico Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco. Durante l'iniziativa si svolta la piantumazione di alcuni alberelli a cura della forestale di Caltanissetta. L'albero si compone con le radici, il tronco, i rami, le foglie, il frutto, tutto. La presento con questo abito un sacchetto della raccolta differenziata, perché noi riciclando le cose così salviamo gli alberi e non cassiamo le frane. E pensare agli alberi quanto sono importanti, che purificano l'aria e fanno tante altre cose, è davvero importante che la gente debba capire l'importanza degli alberi. Gli alberi sono degli elementi importanti per la natura e ci aiutano a vivere meglio. Noi siamo un gruppo di colleghi che continuamente andiamo sulle scuole, come questa specifica scuola, andare a fare educazione ambientale, rispetto dell'ambiente, rispetto della legalità attraverso l'ambiente. Quindi siamo sempre con i ragazzi. Nell'ambito della manifestazione di oggi c'è stato anche uno spettacolo promosso dalla scuola con la collaborazione dell'associazione CAV di Gera dal titolo Un seme, un albero, la vita. E' importante che i ragazzi siano educati sin dalla più tenera età al rispetto dell'ambiente e più in generale, se vogliamo, anche di tutto ciò che è comune. Perché oggi il grosso problema della nostra città è che il bene comune non viene visto come una cosa propria, della quale avere estrema cura, ma come una cosa che è di tutti e quindi è di nessuno. E quindi a partire da una riflessione sul rispetto della natura e dell'ambiente, credo che si possa certamente estenderla a una visione più generale sul rispetto della cosa comune. La scuola è invece apprendere, conoscere e crescere le regole della vita. Oggi credo che qui il dirigente scolastico della Quasimodo, il dottor Tedesco, ha messo in pratica questa fondamentale regola. Una scuola che serve a far crescere uomini e non solo esclusivamente dei contenitori di conoscenza. Vogliamo paragonare questo momento della festa dell'albero al momento in cui quest'uomo e questa donna danno origine a una nuova creatura umana. Per cui la festa di oggi è dell'albero, ma è soprattutto per i bambini.